Ti ho osservato dal primo istante in cui sei tornato in quest'inferno a cercare una croce che per gioco lui ha fatto cadere giù e poi ti ho visto completamente smarrito solo a parlare con i muri dipinti del ma a cercare disperatamente l'amicizia dei suoi figli non sono figli di dio giovanni sono i figli destinati come tutti noi all'inferno i tuoi amici agostino pietro che Paolo e tutti gli altri sono fantasmi tra poco giovanni morirai un'altra volta qui in questo posto e io ci sarò invisibile ad osservarti in questo posto Grazie Grazie Grazie